Ok, la registrazione è partita, condivido lo schermo. Eccoci qua, benvenuti e benvenute a tutte a questo secondo webinar, di un ciclo di webinar organizzati nell'ambito del progetto Ecosistemi Imprenditoriali Resilienti. La formazione di oggi è intitolata Comunicazione Digitale e Marketing Online e mi fa fare a presentarvi la nostra relatrice di oggi, vi parlo un attimo brevemente dell'associazione Microlab, magari alcuni di voi già la conoscono. L'associazione è attiva dal 2003 nell'innovazione sociale per promuovere l'autoimpiego e l'imprenditorialità attraverso dei percorsi gratuiti di mentoring e formazione. Abbiamo 55 mentor volontari che sono attivi in 14 città italiane e abbiamo due sedi operativi a Torino e Napoli, io lavoro nella sede di Torino e appunto questo progetto all'interno del quale si inserisce anche questo webinar è un progetto che intende andare a supportare prevalentemente aspiranti imprenditori e piccoli imprenditori insomma già che hanno già realizzato un'impresa in piccoli comuni, quindi in aree poco densamente abitate e in particolare sono delle formazioni soprattutto volte a dare una formazione, un'imparinatura su delle strategie di digitalizzazione di impresa. La nostra relatrice di oggi che appunto vi presento solo un attimo è Valeria Linei ed è una mentor Microlab di Napoli e oggi appunto ci parlerà di comunicazione digitale e marketing online. Prego Valeria. Grazie, grazie Anna. Allora, benvenuti a questo appuntamento e oggi andiamo a parlare un po' di alcuni concetti base che riguardano la comunicazione del marketing, argomenti che pensiamo vi possano essere utili nella digitalizzazione della vostra attività. Nel precedente appuntamento, che so aver avuto insomma qualche forse settimana scorsa con Cristiano, avete affrontato alcuni argomenti che sono necessari per fare un'analisi sia sull'ambiente esterno, quindi avete parlato di analisi di mercato e analisi della concorrenza, ma anche un'analisi diciamo sull'interno, quindi avete visto la Value Proposition Canvas e un po' tutti questi tre elementi confluiscono in quello che più generalmente chiamiamo il Business Model Canvas. Facciamo un brevissimo riepilogo, con la Value Proposition dovreste aver chiaro qual è la promessa di valore che fate ai vostri clienti, ciò che diciamo in qualche modo fa scegliere il vostro prodotto invece di quello di un competitor. Quindi che cosa avete dovuto fare? Sicuramente avete dovuto analizzare i bisogni dei possibili clienti, le loro esigenze e diciamo in qualche modo capire in che modo il vostro prodotto o servizio si propone per diventare una soluzione a queste necessità che avete potuto individuare. Che cosa facciamo invece oggi? Andremo un po', vedremo un po' quello che, cos'è questo diciamo fantomatico marketing di cui tanto si parla e come può essere utile e diciamo perché è tanto importante parlare di digitalizzazione e in che modo bisogna quindi approcciare l'utilizzo della comunicazione digitale. Vediamo quindi un po' l'indice di oggi. Andando avanti con le slide, parleremo di, l'ho chiamato il marketing e altri arcani perché sono un po' di terminologie che spesso si utilizzano ma che nessuno sa veramente cosa vogliono dire, perché digitalizzare e gli elementi della comunicazione digitale. Prima di iniziare appunto penso sia utile mettere alcuni punti fermi, quindi darvi un po' di glossario in modo che siamo tutti allineati sul significato di alcuni termini che utilizzeremo appunto in questa ora insieme. Partiamo proprio da marketing. con questa parola intendiamo un processo che arriva a individuare i bisogni e le esigenze degli attuali e dei potenziali clienti e stabilire le azioni più opportune per soddisfarli con reciproco vantaggio per i clienti e per l'impresa. Che cosa vuol dire questo? Innanzitutto riassumere un ramo di studi vastissimo in una singola lezione capirete che è molto difficile, per cui partiamo semplicemente da questa definizione e fermiamoci a capire che il marketing ci aiuta a studiare come commercializzare al meglio un determinato prodotto o servizio in modo da poter rispondere a una domanda per quello specifico bene. Facciamo un esempio perché sennò ci perdiamo. Facciamo che le persone cercano una casa da acquistare, questa è la cosiddetta domanda. Io che sono un'agenzia immobiliare cerco il modo migliore di far arrivare le mie proposte di abitazioni che ho disponibili, quindi la mia offerta, ai potenziali clienti in modo da soddisfare quel loro bisogno e al contempo chiaramente trarne una mia utilità, cioè il mio guadagno. Normalmente si distingue il cosiddetto marketing tradizionale, che fa riferimento un po' ai vecchi media, quindi tv, cartelloni pubblicitari, volantini, giornali, radio, dal marketing online, che chiaramente sfrutta le potenzialità di internet per raggiungere i clienti. In realtà, quando si fa questa distinzione, si commette un piccolissimo errore di fondo, nel senso che non è propriamente il marketing a poter essere tradizionale o online, ma sono la comunicazione di marketing o la distribuzione a poter avere queste connotazioni. Abbiamo adesso utilizzato due termini che andiamo a vedere. Per comunicazione intendiamo tutte le attività attraverso le quali raccontiamo e promuoviamo i nostri prodotti o servizi, i quali vengono distribuiti, ecco l'altro termine, attraverso determinati canali di vendita per arrivare sul mercato di nostro interesse. Quindi facciamo anche adesso un esempio pratico. Se vendo computer in un negozio fisico, il mio canale di distribuzione sarà appunto il negozio fisico e potrò scegliere di comunicare il fatto che io venda computer attraverso alcuni cartelloni stradali oppure con dei volantini, questa è la comunicazione tradizionale, oppure con un sito web e una pagina Facebook e questa è la nostra comunicazione digitale. Se invece vendessi i computer attraverso un sito e-commerce, quindi vendessi i computer online, allora anche la mia distribuzione diverrebbe digitale, perché non ho un negozio fisico, ma ho un negozio virtuale. È importantissimo però, quindi dopo aver visto comunicazione e distribuzione, chiedersi a chi mi sto rivolgendo, chi sono queste persone a cui sto cercando di vendere qualcosa. Quel qualcuno è il mio cosiddetto target, ovvero il pubblico obiettivo. Il target è quindi la fascia dei potenziali acquirenti di un prodotto o di un servizio, quindi anche dei destinatari di un messaggio pubblicitario. Capire qual è e diciamo com'è caratterizzato il nostro target di riferimento è molto importante soprattutto nel marketing online, perché andrà ad influenzare tantissimo la scelta dei canali di comunicazione che andremo ad aprire e la tipologia di messaggi che andremo a diffondere. Proprio questa parola, messaggio, è un po' il punto focale su cui bisogna soffermarsi quando si fa comunicazione digitale. Un messaggio è un po' il fulcro di quelli che chiamiamo contenuti, cioè le diverse tipologie di materiali, foto, video, testi, grafiche, che possono circolare online per comunicare il nostro prodotto o servizio. Quindi supponiamo che dobbiamo vendere un'altra volta i nostri computer. Il nostro messaggio potrebbe essere che vendiamo, per esempio, computer di alta qualità oppure computer altamente personalizzabili ad un prezzo molto competitivo rispetto ai nostri concorrenti. Possiamo comunicare questa cosa con una serie di contenuti, ad esempio con un video di presentazione in cui facciamo vedere un computer oppure con una grafica che contiene un'offerta speciale o magari con qualche fotografia e un testo in cui specifichiamo le caratteristiche di questo computer e il prezzo. Abbiamo adesso un po' di terminologia utile per andare ad osservare con più cognizione di causa il fenomeno della digitalizzazione e la materia poi della comunicazione online. Perché è così importante? Partiamo giusto da qualche dato per farci un'idea delle dimensioni del fenomeno. che il mondo attuale, insomma, vada verso una quasi completa digitalizzazione. Certamente non lo scoprite oggi con me, però per darvi una misura, in Italia siamo 60 milioni di persone e abbiamo più di 80 milioni di dispositivi cellulari, quindi di smartphone, e siamo in 50 milioni ad utilizzare internet e 35 milioni ad utilizzare i social media. In cosa si traduce questo utilizzo così massivo di internet? Chiaramente che quando dobbiamo cercare un nuovo prodotto o servizio, andiamo a vedere la prossima grafica, il 45% della popolazione lo trova su Google, che ha superato addirittura la televisione come mezzo di conoscenza di nuovi brand. Nella lista, oltre appunto alla televisione, troviamo siti di rivenditori, come può essere Amazon, il caro vecchio passaparola che sempre funziona, le pubblicità digitali, siti comparatori, come può essere per esempio un trovaprezzi, e siti web dei singoli brand. E' chiaro che quindi internet è il luogo dove svolgiamo tantissime delle nostre attività, tra cui sicuramente ormai anche lo shopping. Infatti andiamo a vedere l'87% di noi ha cercato un prodotto online nell'ultimo mese e il 77% ne ha acquistato uno. Addirittura il 40% lo fa direttamente tramite smartphone. Quindi insomma possiamo vedere che anche a livello e-commerce, poi soprattutto se si vedono queste stesse grafiche rispetto agli anni passati, la crescita è importante. Chiaramente sono proprio gli smartphone ad aver cambiato moltissimo le nostre abitudini. Non solo le abitudini di acquisto, ma anche di informazioni e relazionali. I social media sicuramente sono diventati sempre più luogo di scambio di informazioni, dove apprendiamo le notizie, dove condividiamo le nostre opinioni, raccontiamo i momenti della nostra vita, ma sono anche luoghi dove veniamo a conoscere nuovi prodotti, vediamo pubblicità, seguiamo brand che ci piacciono, e magari commentiamo anche su come ci troviamo con un prodotto o un servizio. Qui nella prossima grafica abbiamo un elenco dei social media più utilizzati in Italia. Al primo posto troviamo YouTube, seguito da WhatsApp, Facebook, Instagram, Messenger, Twitter e LinkedIn. Interessante e da tenere d'occhio è anche TikTok, che trovate al penultimo posto, che è entrato però quest'anno per la prima volta in questa classifica, quindi da vedere la scalata dei prossimi anni, dove lo porterà, però è un social molto molto interessante e attualmente molto apprezzato dai giovani. Con tutte queste informazioni, diciamo che abbiamo ben chiaro che la digitalizzazione è un'opportunità, però allo stesso tempo è anche una sfida, perché porta con sé, diciamo, una grande complessità che va capita e va gestita. Per darvi più strumenti possibili, che vi siano proprio utili in termini pratici, voglio cercare di mettere su con voi un modello di ragionamento che preveda cinque step, che possiamo rappresentare come un circolo virtuoso, che si autoalimenta. Questo modello è quello che possiamo dire essere un po' alla base della formulazione di una strategia di marketing online. E diciamo che altro non è che, questa strategia altro non è che una pianificazione, che ci deve consentire di raggiungere degli obiettivi. raggiungere, diciamo, degli obiettivi legati al nostro business. Quali sono queste cinque fasi? Numero uno, l'individuazione di uno o più messaggi. La seconda fase è la determinazione del target, poi abbiamo la scelta dei canali digitali, la quarta è l'ideazione di contenuti, e la quinta è la raccolta di feedback. Spieghiamo adesso uno ad uno questi momenti, e poi in conclusione facciamo un esempio per riepilogare un po' tutto il circolo e vedere se è tutto chiaro. Allora, partiamo dall'inizio. Con le nostre analisi di mercato, della concorrenza, con il nostro business model canvas e la nostra value proposition, siamo in grado di strutturare uno o più messaggi che devono aiutarci proprio a rispondere ad alcune domande, cioè chi siamo, cosa offriamo, perché scegliere noi. Diciamo che capirete che il messaggio è legato un po' a doppio filo con quelli che possiamo definire obiettivi, quindi avere chiaro chi siamo e cosa offriamo, quindi qual è la nostra proposta di valore, ci porta a poter definire con chiarezza anche chi vogliamo essere, se non lo siamo ancora, e cosa ancora dobbiamo fare per diventarlo. Se pensate alla vostra impresa o idea di impresa, ho visto un pochino, insomma, i vostri questionari compilati, ho visto che tantissimi di voi avete delle idee di impresa oppure delle piccole imprese su cui state iniziando a lavorare, se pensate alla vostra impresa, cercate di individuare qual è il fulcro di quella che può essere la vostra comunicazione, che in qualche modo, diciamo, che corrisponde alla vostra value proposition e da lì estrapoliamo i nostri tratti distintivi, i nostri, li chiamiamo, vantaggi competitivi, che è un altro termine caro al marketing. Può essere che i vostri prodotti abbiano una qualità elevata, che avete una grande attenzione alla customer care, che siete attenti all'ambiente, che i vostri prezzi sono molto competitivi. Quale che sia il vostro messaggio, possiamo andare a messaggio o messaggi, perché non necessariamente è solo un messaggio che possiamo identificare. Andiamo però a vedere quale può essere il nostro target di riferimento, il nostro pubblico. identifichiamo in un certo senso la demografia, quindi età, geolocalizzazione, il sesso, ma anche gli interessi di questo target, i motivi per cui dovrebbero comprare i nostri prodotti o servizi. Insomma, andiamo a creare una sorta di identikit del nostro consumatore tipo. nel marketing si parla di buyer personas. Con questo identikit diciamo che dobbiamo poter rispondere a domande come i nostri prodotti interessano a una fascia giovane, ad una fascia più adulta, interessano più a donne o più a uomini. Su quale territorio stiamo, a quale territorio stiamo facendo riferimento? Perché questa persona X dovrebbe volere il nostro prodotto? che problema gli risolviamo? Quindi che esigenza andiamo a soddisfare? A questo punto dobbiamo anche valutare quali sono i canali da utilizzare per interfacciarci con questo pubblico. Ed è qui che andiamo a fare qualche ragionamento sull'opportunità o meno di digitalizzare. Quando dovremo farlo, come dovremmo farlo e con quali obiettivi. Perché digitalizzare? Partiamo dall'idea che non significa esclusivamente magari inviare un'email al posto di una vecchia lettera commerciale, non basta quello. Vuol dire in qualche modo adattare tutti i processi aziendali, mettiamola così, alle esigenze imposte da questa nuova era digitale che chiaramente ha una velocità e richiede un'efficienza che in qualche modo rivestono un po' un ruolo cruciale in questa epoca insomma un po' così veloce. Potremmo quindi voler digitalizzare principalmente per due motivi. Uno per ampliare il target di riferimento, andando quindi a raggiungere persone che vanno oltre la nostra competenza territoriale, quindi locale, persone che magari senza internet difficilmente andrebbero, si sposterebbero per usufruire del nostro servizio oppure per provare il nostro prodotto. Però possiamo anche pensare di digitalizzare per offrire servizi più tempestivi al nostro pubblico locale, quindi non necessariamente dobbiamo voler cambiare il nostro pubblico. Potremmo comunque desiderare di rivolgerci alla nostra città, al nostro quartiere, alla nostra regione magari, però offrendo diciamo una modalità di comunicazione che possa essere più smart, più veloce. Diciamo che con questi presupposti molte strategie diciamo di web marketing vengono attivate immediatamente includendo tutti i canali di comunicazione senza preferenza di alcun tipo. Si pensa che uno apre i canali social e via abbiamo digitalizzato. In realtà non è così semplice. Diciamo che un'ottima strategia di marketing, di web marketing deve partire da quello che ci siamo detti prima, quindi dall'analisi del target, della concorrenza, dall'individuazione di un messaggio e di obiettivi da voler raggiungere. Soffermandoci un attimo sugli obiettivi dobbiamo avere bene in mente che i nostri canali devono servirci principalmente per queste attività. Numero uno, la brand awareness. Che cosa vuol dire? L'aumento della notorietà del brand. Quindi abbiamo il nostro brand attualmente non è conosciuto oppure vogliamo ampliare il pubblico di riferimento, quindi vogliamo che più persone conoscano, siano consapevoli il termine awareness che esistiamo. Il secondo obiettivo può essere la lead generation. Probabilmente avete sentito questo termine molto spesso se un pochino bazzicate nel mondo della comunicazione. con lead generation intendiamo la generazione di un database di contatti profilati. Qui mi soffermo un attimo perché può essere interessante. Diciamo che in linea generale uno dei motivi per cui si fanno anche soprattutto le attività di advertising online eccetera è cercare di reperire quanti più contatti è possibile. Che cosa vuol dire? Vuol dire letteralmente avere indirizzi email o numeri di telefono ma normalmente si tratta di indirizzi email di persone che possono potenzialmente essere interessati al nostro prodotto o al nostro servizio per esempio a queste lezioni quindi noi attraverso un elenco di indirizzi email cerchiamo ogni tanto di stuzzicare l'interesse per fase 3 cercare di convertire quindi qui abbiamo il momento della vendita quindi il momento in cui in qualche modo si conclude questo diciamo questo intento di entrare in contatto con un potenziale cliente con la conversione il nostro potenziale cliente diventa un nostro attuale cliente e poi abbiamo la fase 4 che è la customer care che è l'attenzione mostrata verso il cliente pre e post vendita quindi non c'è soltanto la customer care relativa a cerco di vendere quel prodotto attenzione questo può essere sia offline che online ma ovviamente online ci si aspetta un po' erroneamente un po' perché ormai siamo tanto abituati a risposte istantanee per cui aspettare un pochino di tempo quasi genera fastidio però soprattutto quando cerchiamo di mettere su una customer care online la velocità è molto molto importante quindi facciamo attenzione se pensiamo di aprire una pagina facebook una pagina instagram oppure anche solamente utilizzare whatsapp per parlare con i nostri clienti diciamo potenziali o attuali facciamo attenzione che nell'aprire questi canali in qualche modo si genera nell'utente un'aspettativa di velocità ok quindi la digitalizzazione è da questo punto di vista un pochino rischiosa perché generiamo un'aspettativa di tempestività diciamo che cosa ripetiamo un pochino questi termini scusa Valeria ti posso interrompere solo un attimo c'è una domanda in chat specifica sulla lead generation chiedono Iva chiede se esiste un programma specifico per creare una corretta e valida lead generation allora in realtà la risposta è nì nel senso che la lead generation in sé deriva molto spesso dalle attività di advertising quindi quello che si fa per esempio con le sponsorizzazioni su su facebook su instagram oppure con google adwords quindi con gli annunci di google quelle diciamo sono fonte di lead generation ok quindi lì abbiamo i nostri contatti in qualche modo ci devono derivare da queste attività di diciamo quelle che abbiamo messo su per aumentare l'awareness ok quindi da lì noi possiamo estrapolare una serie di contatti che poi andiamo a inserire invece all'interno di un gestionale ecco quindi se mi chiedi questo sono due momenti un po' diversi un conto è la generation che quindi normalmente deriva da attività online come l'advertising un'altra cosa poi è la gestione di questi leads cioè di questi contatti normalmente dove confluiscono potrebbero confluire all'interno di un database come che ci permette di mettere su per esempio una newsletter ok quindi questi indirizzi email li possiamo utilizzare sempre diciamo un po' in un'ottica insomma teniamo un attimo da parte la questione della privacy perché ovviamente è un argomento un po' delicato diciamo che in linea di massima l'idea sarebbe che questi indirizzi email poi lì si possa utilizzare per chiaramente ricontattare quelle persone quindi di farlo attraverso magari delle appunto delle mail oppure utilizzare questi stessi contatti e reinserirli all'interno di facebook eccetera per in qualche modo migliorare la profilazione delle nostre attività però insomma stiamo andando forse un po' un po' nel tecnico in linea generale diciamo che per generare leads sicuramente l'advertising è la strada quindi sono proprio le piattaforme come google adwords oppure come il business manager di facebook che ci permettono un po' di creare questi leads a livello proprio digital non so se ho risposto alla domanda casomai magari più più avanti ci ritorniamo sì vedo che stanno insomma iva ha detto ringrazio molto per la risposta la newsletter è uno strumento interno alla lead generation giusto? sì praticamente sì nel senso che è lo strumento che ci permette poi di farne qualcosa di questa lead generation ok quindi perché abbiamo tanti contatti e con le newsletter andiamo a avere poi un momento di contatto perché se abbiamo soltanto l'indirizzo email non ce ne facciamo niente quindi non andiamo a favorire la conversione invece con la newsletter noi abbiamo un la possibilità di avere questo touch point quindi proprio letteralmente il momento di contatto con con il nostro utente quindi sì diciamo che possiamo considerare la newsletter un po' una derivazione naturale del dell'aver fatto tanta fatica a raccogliere questi questi leads vado vado avanti poi magari appunto se ci sono ancora dubbi su questa cosa ci torniamo dopo andiamo a vedere a proposito volevo dire che in questa sede oggi non andiamo ad approfondire troppo questo ambito perché vi ricordo che avremo una lezione tra qualche settimana sempre con me dedicata esclusivamente ai canali digitali in cui andremo a vedere appunto quali scegliere e come utilizzarli al meglio quindi insomma in quell'occasione sicuramente andremo poi anche più nel dettaglio diciamo che ci basti sapere per adesso che come canali digitali ci interesserà principalmente parlare di sito web email marketing tra cui appunto rientra anche la newsletter motori di ricerca e social media diciamo che riguardo a motori di ricerca e social media chiaramente ci sono due tipologie di attività alcune attività che si fanno non a pagamento e altre attività che invece riguardano la possibilità appunto di fare advertising quindi di fare pubblicità digitale però appunto come abbiamo detto questi saranno argomenti proprio della della prossima volta che ci vedremo che vi vedrete vedrete con con me una volta che diciamo quindi avremo scelto quali canali aprire nel nostro processo di digitalizzazione dobbiamo capire cosa farci con questi con questi canali quindi come utilizzarli diciamo che se vi guardate in giro sui social su internet avete ben chiaro quali sono gli elementi che normalmente catturano la vostra attenzione vedete fotografie vedete grafiche vedete video leggete dei testi degli articoli magari vi vedete qualcosa in streaming diciamo tutte queste tipologie di elementi vengono chiamati contenuti oppure content in inglese diciamo che il fulcro del web marketing è un po' riuscire a indovinare la giusta tipologia di contenuti da proporre agli utenti potenzialmente interessati quindi li torniamo a qual è il nostro target attraverso i giusti canali quindi giusta tipologia di contenuti utenti interessati attraverso i giusti canali diciamo in marketing si dice sempre un po' is king il contenuto è sovrano quindi diciamo che in linea generale contenuti originali autentici di alta qualità coerenti e coinvolgenti queste parole stampatevele perché devono essere un po' una vostra guida nel realizzare contenuti perché queste sono un po' molto spesso le chiavi del successo comunicativo quindi se riusciamo a inquadrare la nostra produzione di contenuti diciamo che abbiano queste connotazioni diciamo che potremmo avere buone speranze di lavorare bene a livello digitale cosa vuol dire tutto questo vuol dire cercare di creare degli elementi di comunicazione che siano in qualche modo rappresentativi della vostra azienda che raccontino quel messaggio di cui abbiamo parlato che si rivolgono rivolgano al target che abbiamo individuato con degli obiettivi che fanno riferimento ad uno di quelli di cui di cui sopra quindi awareness lead generation conversione o customer care per semplificarvi un po' la comprensione banalmente se pensate ai social media ogni post che vedete è un contenuto quindi un contenuto che deve raccontare qualcosa che deve trasmettere un'informazione appunto un messaggio per farlo in modo ottimale è necessario che questi contenuti siano ben curati che si curi l'immagine del nostro brand quindi anche l'estetica però è importante anche veicolare dei valori magari sposare delle cause anche esporsi magari su qualche argomento scegliere dei testimonial valorizzare le recensioni positive per esempio che si ricevano oppure si può pensare di creare contenuti accattivanti che possano essere elementi diciamo anche di intrattenimento perché non ci scordiamo che soprattutto sui social media noi becchiamo le persone nei loro momenti di tempo libero quindi cosa le fa affermare in questa attività di scroll continuo che le persone diciamo ormai nel loro tempo libero fanno se trovano appunto qualche contenuto di cui sopra autentico originale accattivante di alta qualità quindi l'importanza per esempio di fare una buona foto con diciamo con una che sia in alta definizione rispetto a una fotografia magari con un cellulare non non ottimale la differenza potrebbe essere proprio in questa in questa cosa qui la capacità o meno di bloccare l'utente mentre sta scrollando quindi consideriamo diciamo un po' una una regola che io mi occupo principalmente di social media appunto e quello che si deve tenere in considerazione è che normalmente abbiamo circa un secondo di attenzione da parte dell'utente quindi io in quell'unico secondo in cui lui sta facendo quell'attività di scroll e passa su quello che io ho pubblicato o diciamo in quell'unico secondo si determina se presterà attenzione a quel mio contenuto o meno quindi tutto quello che facciamo purtroppo perché diciamo che sicuramente un po' la soglia di attenzione delle persone si è un po' abbassata dobbiamo pensare che purtroppo abbiamo un secondo dell'attenzione delle persone sui social media quindi dobbiamo insomma tarare un po' i nostri contenuti su questa evidenza quindi ricapitoliamo ancora una volta siamo partiti da quello che avete visto la volta scorsa abbiamo fatto un'analisi di mercato un'analisi della concorrenza ci siamo chiesti qual è la nostra value proposition e quindi i quali possono essere i nostri messaggi sulla base di questi messaggi individuiamo il target di riferimento sono dei passaggi lo so che sto ripetendo un po' tutto questo circolo più volte ma non avete idea di quante volte diciamo si pensa di andare a creare dei contenuti senza avere idea di qual è il proprio messaggio oppure senza aver minimamente preso in considerazione qual è il nostro target di riferimento è il target che ci deve aiutare a capire se la digitalizzazione può essere per noi un'opportunità interessante o meno e è sul target che dobbiamo scegliere in base al target dobbiamo scegliere i canali eventuali diciamo digitali che possono essere più interessanti argomento che abbiamo detto approfondiremo la prossima volta a quel punto sulla base dei contenuti digitali che abbiamo scelto di aprire abbiamo detto che dobbiamo veicolare dei contenuti attraverso questi canali attraverso i quali dobbiamo colpire interessare incuriosire e magari appunto convertire quindi vendere qualcosa al nostro pubblico di riferimento cosa ci resta da fare l'idea è che una volta che abbiamo pubblicato i nostri contenuti quindi li abbiamo lanciati nell'etere di internet torniamo poi a dare un'occhiata per vedere come stanno andando quindi vediamo il numero di visite ad un sito vediamo il numero di like o di commenti ad un post sui social anche se vi invito questi numeri non vanno considerati fini a se stessi perché diciamo il numero il vostro numero di follower il numero di like ad un post se li guardate da soli sono semplici elementi di vanità si chiamano proprio vanity metrics quindi metriche di vanità quando è che questi numeri acquisiscono un senso quando vengono messi in comunicazione tra di loro anche questo lo andremo a vedere un po' meglio nella prossima puntata sui canali però vi voglio fare una piccola anticipazione così se stasera vi andate a vedere i vostri social magari fate questa considerazione qui il numero di like di commenti e un post ha senso in relazione al numero di follower quindi probabilmente una pagina con meno follower potrebbe avere un tasso di engagement si dice quindi di interazione che potrebbe a volte essere maggiore di una pagina con tantissimi follower quindi per assurdo è meglio avere meno follower ma più interazione che più follower e meno interazione quindi è importante che questi due numeri vengano visti insieme perché è quello che ci dà diciamo una misura vera e propria di come stanno andando così come il numero di visite ad un sito non va visto fino a se stesso va visto ok ma di queste visite a un sito quanti hanno approfondito quindi quanti hanno visto più pagine del nostro sito quanti sono arrivati a inviarci un contatto oppure da dove arrivano queste visite al sito se magari avevamo avuto una lead generation di dieci e di questi dieci otto ci arrivano a mandare un messaggio è vero che dieci non è un numero alto ma otto su dieci è altissimo quindi diciamo vanno questi numeri vanno sempre visti un po' in relazione tra di loro quindi il grado di engagement di interazione degli utenti deve essere per noi un feedback per capire come e cosa migliorare quindi cosa il nostro pubblico trova più interessante cosa è il risultato più efficace e cosa magari è stato proprio un errore di comunicazione e a volte quegli errori di comunicazione sono quelli che hanno più commenti perché magari ci sono più persone che ci fanno notare che quello è stato un errore quindi attenzione che anche i commenti negativi sono commenti ma non per quello il post ha avuto un'ottima interazione un ottimo livello di engagement quindi andiamo a vedere anche la qualità dei commenti non basta vedere solo il numero andiamo a vedere anche se ci sono state recensioni in giro per il web magari se c'è qualche sito come può essere un TripAdvisor o anche lo stesso lo stesso a schede di Google dove gli utenti hanno possibilità di lasciare delle recensioni andiamo a leggere i commenti che sono arrivati sui social o appunto da su Google o altri siti monitoriamo la crescita dei nostri profili quindi nel tempo cerchiamo di tenere traccia di come vanno avanti i nostri profili vediamo per esempio se le nostre email vengono lette se producono interesse e questo diciamo le piattaforme di email marketing ci consentono di vedere per esempio quante email vengono aperte insomma quindi guardiamo con un occhio critico tutto quello che abbiamo detto fino ad adesso quindi tutto quello che avrete fatto fino a quel momento per chiudere il cerchio quindi rifocalizzare i nostri obiettivi il nostro messaggio il nostro target i contenuti in modo da puntare man mano a una maggiore efficacia di tutte le nostre azioni online diciamo che proprio questo forse è la più grande potenzialità del web non solo come abbiamo visto poter allargare la propria audience oltre il proprio territorio limitato e appunto essendo qui diciamo stiamo parlando di ecosistemi residenti quindi anche di magari piccoli centri potrebbe essere una cosa interessante poter andare oltre il proprio territorio oppure poter abbiamo detto offrire servizi rapidi e tempestivi ai clienti ma anche diciamo una grande potenzialità è quella di avere la possibilità di tracciare osservare monitorare tutto quello che facciamo avere tantissimi dati su cui poter ragionare e che devono però servirci non per farci belli allo specchio ma per migliorare continuamente dobbiamo essere quindi pronti per ripartire verso il periodo di pianificazione successiva diciamo un po' forti delle considerazioni che abbiamo fatto delle critiche costruttive che ci sono state mosse e delle difficoltà o i successi che abbiamo avuto con questo diciamo che abbiamo chiuso il nostro quello che abbiamo chiamato un po' questo circolo virtuoso che è un questo nostro modello di ragionamento digitale che vi deve servire proprio come linea e guida qualora decideste di affrontare questo processo e diciamo entrare nel nel magico mondo del web con la vostra attività se abbiamo ancora un po' di tempo e non dobbiamo passare sì volevo solo dirti che ci sono state due domande rispetto a questa questione dei feedback e in particolare ce n'è una in cui qualcuno chiede se tutti i commenti che si vedono di feedback magari sulle delle piattaforme come quelle a cui facevi riferimento mi immagino anche su google se siano tutti veritieri oppure se ci siano delle strategie di marketing immagino supposte che allora diciamo che tecnicamente l'etica dovrebbe essere alla base del del lavoro di di ognuno succede perché purtroppo succede che siano magari concorrenti tra di loro ad infangarsi e quindi a lasciarsi recensioni negative per screditare il concorrente quindi purtroppo quello che succede è che ci sono profili falsi perché magari è un concorrente un'antipatia un qualcosa del genere che va a screditare diciamo l'attività di altri quindi la risposta che mi sento di dire perché ho fiducia nel mondo è che la maggior parte delle recensioni siano veritiere però è chiaro che possono esserci recensioni false quando sono negative che derivano da concorrenti così come possono esserci recensioni false che siano positive che arrivano dallo stesso imprenditore o diciamo circolo ristretto quindi diciamo che quella forse è un pochino una cosa un po' da fare nel senso che magari quando all'inizio sei a zero recensioni quello che fai è chiedere a mamma papà sorella fratello amici di lasciare una recensione ma perché quello ti consente un po' sai di avere quella prima visibilità quindi onestamente non mi sento di condannare le auto recensioni positive quando sono date per dare una piccola spinta iniziale che è un po' come quando ci si segue da soli sui social per aumentare un pochino il numero di follower diciamo che è una spinta iniziale che può starci mentre invece lasciare recensioni negative a un proprio competitor è proprio diciamo chiaramente eticamente molto scorretto e sempre rispetto a questo qualcuno chiede se i commenti negativi è meglio tenerli oppure cancellarli domanda da un milione di dollari allora diciamo che ogni social media manager o in generale gestore di queste cose ha un po' una propria linea di tolleranza ok che dice io fino a questo punto rispondo oltre elimino la mia personale linea di tolleranza è nel quando si sfocia nell'insulto o nell'offesa nel senso che tutto ciò che è critica costruttiva che viene data magari argomentando è un conto e secondo me lì è importantissimo rispondere e rispondere con la massima umiltà possibile quindi grazie per questo commento prendiamo assolutamente in considerazione questa cosa e vogliamo migliorare sulla base di questa cosa che ci è stata detta oppure guarda è successo questa cosa questo disservizio è successo per questo questo e questo motivo in questo modo non soltanto rispondi alla persona ma diciamo che dai un esempio fai capire anche ad altri potenziali utenti che il tuo livello di customer care è importante laddove invece il commento sia un insulto fine a se stesso ci siano termini denigratori spesso parolacce spesso offese eccetera io lì ho tolleranza zero quindi prima parolaccia o parola fuori posto o insulto fine a se stesso che non ha argomentazioni io io preferisco eliminare ma semplicemente perché insomma ritengo che che sui social ci sia fin troppo odio ed è brutto insomma quindi sono per non non lasciare spazio a a queste cose bisogna bisogna veramente dove è possibile perché ovviamente quando i commenti sono tanti magari su una grande azienda è difficile star dietro però dove si riesce insomma non dare spazio purtroppo agli idioti ecco questa è un po' grazie è chiaro non so c'è ancora soltanto una slide giusto? Sì diciamo che voleva essere quest'ultima un esempio in cui appunto facciamo un caso pratico in cui rifacciamo tutto il circolo applicato a un potenziale piccolo business e poi dopo magari facciamo qualche altro qualche altra domanda ok allora magari l'ultima domanda che c'era in chat la teniamo per dopo ok allora quindi andiamo a ricostruire un pochino tutti questi step di ragionamento vediamo nella pratica come strutturare questo approccio alla digitalizzazione per un'attività locale facciamo l'ipotesi di nuovo del negozio fisico che vende computer in un piccolo centro abitato partiamo con l'immaginare la value proposition quindi immaginiamo che il titolare sia un giovane con grande talento nell'assemblare i computer non so se sono l'unica nerd nella stanza però assemblare un computer vuol dire avere la scatola il case e metterci dentro la scheda video la scheda madre ogni singola componente che è diverso dal comprare insomma un computer già fatto piccola premessa perché vabbè diciamo che deriva da un'esperienza personale quindi sono una grande fan dei computer assemblati quindi questo questo giovane conosce molto bene come assemblare i computer conosce le componenti di ultima generazione sa creare computer quindi personalizzati sulle esigenze e sui gusti della clientela questa può essere una value proposition interessante che va quindi nella direzione della personalizzazione del prodotto e nella vendita quindi di un prodotto finito che parte da forti competenze tecniche che appunto ha il nostro giovane imprenditore lavoriamo quindi ad esempio su questo messaggio vi ricordo che se ne possono creare vari a seconda di quanti vantaggi competitivi individuiamo pensiamo che quindi abbiamo un negozio di computer che vuole trasferire al mercato il messaggio che realizza computer assemblati personalizzati per le esigenze il punto cruciale per una buona strategia di digitalizzazione è proprio partire da lì cioè dal capire cosa dobbiamo comunicare e poi soprattutto a chi quindi quale può essere il suo target il target sarà composto magari da aziende professionisti utenti che hanno bisogno di computer particolari con appunto magari schede video o schede di memoria particolarmente performanti che quindi non si possono accontentare di un computer portatile perché hanno bisogno di performance maggiori e che quindi possono essere interessati a questo tipo di prodotto non solo ma si può individuare anche un secondo pubblico target composto da quelli che si definiscono gamers non so se conoscete il termine appunto se sono l'unica nerd qui in mezzo cioè ragazzi o ragazze che giocano ai videogiochi al pc sono tantissimi e spesso proprio scelgono di non comprare un computer che sia preconfezionato per avere maggiori funzionalità ma anche proprio per un fatto estetico perché questi computer per il gaming quindi per i videogiochi sono molto particolari molto colorati ed è per questo che spesso se li assemblano se li fanno assemblare scegliendo tutte magari ventole o elementi colorati particolari capirete che queste tipologie di target potrebbero essere non particolarmente numerose in un piccolo centro abitato quanti gamers ci possono essere in un piccolo centro abitato quanti utenti che possano dover avere un computer personalizzato quindi se mantenessimo il solo negozio fisico potrebbe non esserci una grossa grossa clientela quindi in questo caso può essere molto interessante la strada della digitalizzazione bisogna analizzare un po' il mercato online quindi vedere quali sono i principali concorrenti nella vendita online di un prodotto simile per capire fondamentalmente se parliamo di un mercato saturo o con spazio per la competizione che cosa vuol dire questo che se volessi mettermi a fare il prossimo amazon probabilmente questo mercato è già saturo nel senso che con tutti gli investimenti che posso provare a pensare con tutte diciamo le buone intenzioni di questo mondo quello è un mercato attualmente piuttosto saturo nel senso che essendoci già un enorme player quindi un enorme competitor che già diciamo ha una grossa potenza è difficile potersi inventare qualcosa tale per cui riesce a acquisire diciamo una una fascia di di quel target quindi diciamo individuato il target e fatta questa piccola analisi preliminare non ci resta che capire quali canali possono esserci più utili per raggiungere l'obiettivo di abbiamo detto ampliare il pubblico di riferimento rispetto al pubblico locale quindi approfondiremo questo tema magari riprendiamo proprio se vi è piaciuto questo esempio con i computer nella lezione dedicata ai canali digitali ma diciamo proviamo ad andare ad intuito possiamo pensare che questo imprenditore a questo imprenditore possa servire un sito web che funzioni un po' da vetrina virtuale per in cui dimostrare le sue le sue competenze per mostrare le tipologie di computer che è in grado di assemblare per poter essere magari cercato e contattato tramite google potrebbe avere per lui senso anche aprire una pagina facebook sicuramente così come magari una pagina linkedin per entrare in contatto con aziende professionisti ma in realtà anche su instagram o su tiktok che sono i social più giovani potrebbe farsi conoscere invece dal target quello che abbiamo individuato dei gamers quindi di quelli che giocano ai videogiochi potrebbe magari invece essergli utile anche un canale youtube in cui potrebbe proprio far vedere come assembla i computer su youtube ci sono tantissimi non so se li vedete di questi video in cui si vede come si fanno le cose insomma è molto interessante e quindi far vedere come scegliere diversi componenti magari può fare delle recensioni a diversi componenti o comparare diversi componenti tutti questi potrebbero essere esempi quindi di modalità di utilizzare quindi di creare contenuti attraverso quei canali potrebbe sicuramente essere interessante per lui avere una newsletter con cui aggiornare i suoi utenti o clienti su possibili offerte nuovi pezzi nuove generazioni di pezzi insomma che possano interessare o aggiornamenti di software dei computer un elemento chiave che pure vedremo nella prossima lezione è che tutti questi canali siano tra loro connessi che ci sia possibilità di muoversi dall'uno all'altro senza troppa confusione a questo punto non resta che fare un po' di programmazione dei contenuti attraverso quello che normalmente chiamiamo un piano editoriale quindi proprio una sorta di calendario in cui andiamo a fissare il giorno tot pubblichiamo questo contenuto il giorno tot pubblichiamo quest'altro andiamo a capire anche proprio rispetto alle nostre possibilità di investimento perché diciamo che non tutto può essere autoprodotto mantenendo una buona qualità quindi se dobbiamo fare un video chiaramente un conto è fare un video professionale un conto e fare un video con il cellulare capiamo in base alla nostra possibilità di investimento quanti e che tipo di contenuti vogliamo pubblicare abbiamo detto che contenuti originali autentici di alta qualità coerenti coinvolgenti molto spesso sono la chiave del successo comunicativo possiamo ragionare per esempio su grafiche in cui si facciano delle opzioni di assemblaggio quindi specificando il destinatario di quel particolare pc possiamo immaginare dei video in cui appunto abbiamo detto si vede il pc che man mano prende forma possiamo immaginare in buona diciamo fotografie in buona risoluzione che facciano vedere magari dei dettagli la cura del lavoro e possiamo fare magari qualche grafica che comprende delle buone recensioni o magari appunto delle offerte ad essere proprio onesti diciamo che non c'è una tipologia di contenuto in sé che funziona meglio di altri di solito è questa la domanda che mi viene fatta sicuramente tutto dipende dalla forma e dalla qualità sia del prodotto di partenza quindi se in realtà non sei bravo ad assemblare i computer non c'è comunicazione che tenga per farti vendere più computer devi essere innanzitutto bravo ad assemblare i computer e due se sei bravo ad assemblare i computer ma la tua comunicazione è di bassa qualità la percezione che le persone avranno e che il tuo prodotto ad essere di bassa qualità per questo è importante che se abbiamo un prodotto di qualità è importante che anche la comunicazione sia di alta qualità proprio per per trasmettere quel quel valore quindi per chiudere il cerchio poi una volta pubblicati i contenuti dobbiamo osservare diciamo costantemente il feedback che ci ritorna cosa ne pensano gli utenti abbiamo generato interesse utilità abbiamo fornito informazioni quindi la conoscenza del nostro brand quindi l'awareness di cui abbiamo parlato è migliorata siamo stati tempestivi nelle risposte o ci abbiamo messo giorni a rispondere a un messaggio su whatsapp o sulla pagina facebook abbiamo ricavato contatti utili quindi abbiamo fatto lead generation quali contenuti sono andati meglio quali sono andati peggio su quali canali sono quelli che sono andati meglio diciamo che queste sono tantissime domande che devono servire un po' per apportare sempre maggiori informazioni e quindi anche eventualmente a poter rivalutare delle scelte che sono state fatte in questo modo impariamo impariamo meglio a conoscere il target approfondiamo l'uso dei canali e magari scopriamo pure insomma che c'è un'opportunità dietro l'angolo magari su su un nuovo un nuovo canale che non avevamo considerato o proprio magari un'altra nicchia di mercato un altro target che non avevamo proprio preso in considerazione diciamo con questo alle 20.01 quindi precisissima abbiamo concluso la prima parte io vi ringrazio per l'attenzione spero sia stato chiaro insomma interessante se avete domande sono qui grazie mille Valeria allora io direi che in questo momento dunque ci sono delle domande in chat però di coloro che le hanno scritte se vogliono porle in diretta forse si crea un'interazione un po' più così diretta se no io le leggo non so per esempio Iva aveva fatto un'altra domanda relativa invece a se esiste un elenco di keywords che può essere consultato utilizzato per catturare l'attenzione in quel secondo che si ha a disposizione diciamo che non vi posso rispondere in modo esatto nel senso che dipende dal settore quindi chiaramente ogni settore avrà delle proprie keywords ma diciamo che in linea generale più che le parole sono le immagini che catturano l'attenzione in quel secondo quindi se abbiamo un secondo di attenzione poi il testo normalmente è il secondo elemento che chiaramente andiamo a vedere ma principalmente più che soffermarsi sul testo è l'immagine o un video che fanno fare insomma click quindi la grafica spesso a un'immagine con scritto stop ci ferma quindi quale quale che sia non ci abbiamo scritto niente sopra ma quell'immagine comunque ha catturato la nostra attenzione quindi quello che dobbiamo in qualche modo creare soprattutto a livello visivo è quell'effetto stop ok quindi un po' quello poi ci sono le keywords e quello sicuramente nella nella prima riga soprattutto del testo bisogna condensare quelle che sono le cose interessanti che abbiamo da dire ma appunto dipende molto dal settore da che contenuto andiamo a pubblicare ok grazie c'era Alvaro forse che voleva fare una domanda prego l'ho scritta in chat volevo sapere se è opportuno comunicare i prezzi del dei servizi offerti allora anche qui direi dipende nel senso che se il prezzo è un nostro vantaggio competitivo allora sì quindi se individuiamo che è proprio il prezzo a poterci distinguere dalla concorrenza e allora è proprio sul prezzo che dobbiamo battere ma se invece il mio vantaggio è che io ti so fare dei computer pazzeschi e quello che ti serve io te lo faccio il prezzo deve essere il tuo ultimo problema o comunque non deve essere la differenza magari tra 10 e 30 che ti fa scegliere se prendere o meno quel computer quindi dipende appunto da qual è il nostro vantaggio competitivo per questo è importantissimo definire all'inizio qual è il messaggio però se io sono per esempio un supermercato ok che quindi tantissimo punta sulle offerte se vedete la comunicazione di quasi tutti i supermercati si batte su quello offerta speciale prosciutto cotto a tot perché perché è quello che in quel momento ci fa scegliere quel determinato supermercato quindi questa è un po' penso la risposta alla domanda grazie e mi complimento per la chiarezza di tutta la lezione grazie grazie ci sono altri commenti del genere numerosi in chat rispetto insomma alla chiarezza e vari apprezzamenti mi sono adesso accorta che sono praticamente al buio non mi vedete se ne è andata abbastanza la luce c'è una domanda che invece dunque qualcuno chiede è meglio pubblicizzare sui social e sito web in generale un prodotto quando è ancora allo stato prototipale e iniziare quindi a farlo conoscere oppure aspettare che sia un prodotto pronto alla vendita dipende la mia risposta sarà sempre dipende chiaramente però se stiamo producendo se stiamo per produrre qualcosa di estremamente innovativo io direi inizia a stuzzicare l'interesse è ovvio che se invece stiamo diciamo stiamo per pubblicizzare un prodotto che è già diciamo conosciuto allora direi aspetta che le persone poi possano anche comprarlo però conosco e ho lavorato anzi proprio adesso sto lavorando su un progetto che sarà l'uscita di un videoclip particolare musicale che andrà a raccontare l'isola di Procida qui vicino in vista di Procida 2022 capitale della cultura e stiamo facendo tutto un lavoro per arrivare all'uscita di quella cosa perché fondamentalmente vogliamo diciamo stimolare l'interesse perché quando ci sarà il lancio visto che è una cosa molto particolare avremo già raccontato tutto il retroscena e quindi in quel momento ci si potrà direttamente godere e usufruire insomma di quella particolare cosa penso che questo un po' si applichi a tutte quelle che sono appunto i prodotti o i servizi innovativi e quindi mi sembra intelligente l'idea di una fase pre-lancio quindi in cui facciamo subodorare un po' la cosa iniziamo a fare qualche piccolo spoiler e poi magari ecco poi c'è il lancio vero e proprio grazie dunque io lascerei dunque al massimo ancora un paio di domande ma proprio brevemente Iva che era la stessa persona che aveva fatto una domanda rispetto alle keywords diceva invece per decidere un titolo di iscrizione di prodotti artigianali per esempio quale strategia ad operare ma anche lì in modo che il vantaggio competizione cioè il tuo elemento di differenziazione sia particolarmente evidente quindi se non so adesso che prodotto artigianale fai riferimento però se hai una modalità con un intaglio particolare oppure con l'utilizzo di un materiale particolare che si evinca quello quindi tenere diciamo presente qual è il vostro messaggio vi deve proprio servire a dire ok io è su questo che devo puntare quindi se state se sai fare una particolare lavorazione la sai fare solo tu ed è una cosa molto particolare oppure utilizzi una lega particolare di metalli non lo so non me ne intendo però fai in modo che si noti subito quello che si capisca subito quello perfetto io chiuderei con ecco la domanda di Isabel se vuoi porla in diretta forse è più semplice se vuoi aprire il microfono e farla e poi chiudiamo Isabel non può ok io posso fare una domanda scusate certo prego salve a tutti Alessandro D'Alba da Palermo buona serata due domande non troppo nel merito ma in realtà sì in qualche in una minima parte io ho degli interessi particolari nel mondo degli esports ecco avendo partecipato a varie competizioni online nel campo del sim racing quindi diciamo in passato c'era stata un pochino l'ambizione diciamo di diventare un pochino un po' non dico un influencer però uno youtuber piuttosto che andare a creare un brand vabbè sei su Twitch quindi su Twitch quindi magari stream su Twitch e poi magari andare a produrre dei video montati ad hoc su YouTube e quindi andare a produrre un attimino una figura sulla mia persona poi con l'andare del tempo ecco sto facendo degli studi diciamo di recupero anni per conseguire un diploma in ambito commerciale ecco sempre sia però quindi sistemi informativi aziendali che comunque sono anche la mia passione mi piace molto l'informatica so usare abbastanza bene Photoshop mi piace molto la fotografia ok spazio un attimino in generale ecco da qui è nata un pochino l'ambizione di come dire voler creare un po' cosa di mia a livello di attività e-commerce che può essere un servizio un'attività di servizi tramite app lavorare diciamo da casa che era qualcosa di mio da qui il mio interesse diciamo il mio contatto nei confronti di Invitalia piuttosto che nel resto del sud è capire un attimino qualcosa di più non sapendomi muovere bene in tutti i vari ambiti cioè sapere un po' di tutto ma non troppo bene nella fattista ecco quindi volevo un attimino sapere le considerazioni al riguardo molto brevi comunque dobbiamo chiudere allora diciamo che mi è chiaro che tu voglia metter su qualcosa di tuo che lo voglia fare in via digitale il problema è che penso che nemmeno tu abbia ben chiaro che cosa vuoi vendere ok cioè in realtà mi ero messo in contatto con alcune società però per dei franchising uno riguardava la micromobilità sostenibile quindi monopassini elettrici che su Palermo hanno debutato da poco un'altra era un'applicazione simile a Amazon che funziona però facendo la voce che si chiama Comuni a Domicilio era un'azienda che comunque fa dei franchising in cui tu sei il proprietario della tua città quindi Comuni a Domicilio diventa un'ipotetica Palermo a Domicilio e valorizza un attimino quella che è l'attività locale come se fosse però digitale cioè tu da un cellulare tu ordini un phone da un euro e te lo puoi mandare a casa piuttosto che ordinarlo da Amazon e te lo fai spedire dal corriere quindi era una delle idee diciamo in franchising poi un'idea mia propria non ce l'ho dove svilupparla come dei mentor di Invitalia però è una cosa che deve andare un po' più avanti nel tempo ok io ti consiglio onestamente di partire da lì nel senso che una qualsiasi idea di business deve partire dalla value proposition quindi deve partire io ho questa competenza ho questo prodotto ho questa offerta che può avere questo vantaggio competitivo quindi mettiti lì a tavolino a capire bene ok quale deve essere la mia offerta su che cosa devo devo lavorare su che cosa voglio lavorare e concentrati concentrati su quello perché molto spesso c'è la voglia di fare business ma manca il business ok quindi è chiaro più o meno il concetto quello che vuoi dire c'è voglia di fare però magari esattamente quindi trova una sfida e diciamo cerca di seguire quello appunto mi sembrano delle idee interessanti ma inizia a fare un'analisi di mercato magari vedere se ci sono già concorrenti che lo fanno perché molto spesso si pensa di avere un'idea brillante è difficile che qualcun altro non ci abbia pensato ok quindi partiamo sempre dal presupposto che se le ha avuto quell'idea possono averla avuta altre 100 persone quindi per questo è importante l'analisi di mercato quindi abbiamo la nostra idea facciamo un'analisi di mercato vediamo se qualcuno l'ha già fatto come lo fanno perché pure se l'hanno già fatto magari lo fanno male quindi uno può anche copiare perché pensi che quel qualcosa venga fatto male quindi se troviamo per esempio un settore in cui qualcuno ha avuto un'idea ma la sta facendo male fermo restando idee di brevettate proprietà intellettuale eccetera ma ci sono magari invece degli ambiti dove non c'è questo tipologia di cose ma si può tranquillamente fare un'innovazione di qualità mettiamola così quindi quello che è la nostra innovazione non è nell'idea in sé ma nel come andiamo a fare quella cosa in una concorrenza che però prevale su qualcun altro e quindi farsi che sia vincente come hai detto esatto però insomma parti parti da lì perché è prima di arrivare alla digitalizzazione eventuale devi avere insomma un'idea di business che sia più chiara insomma però assolutamente c'è chi ha le idee e non ha voglia di fare quindi già avere voglia di fare metà dell'opera sì 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 è una sorta di riscatto personale dovuta diciamo a un altro problemi personale a livello fisico che non mi consentono più di quello che avrei voluto fare io correvo in moto quindi insomma mi è raggiunto di fare queste cose e insomma non potendo più farlo mi sono appassionato ad altre robe che insomma il fisico lo impiegano meno e comunque sto cercando un attimo di riscattarmi avendo molta voglia di fare però voglio farlo bene grazie spero che i mentor di Invitalia possano aiutarmi in questo senso ma sicuramente però pensa focalizzati insomma su cosa su cosa ti piace davvero e cerca di di cavarne fuori ecco magari ti rendi conto stesso tu di avere qualche esigenza che potrebbe essere comune ad altre persone e magari senti che quell'esigenza non viene colmata da altre attività magari l'idea di business potrebbe stare lì quindi vai a vedere magari tra le tue diciamo esigenze se c'è un qualcosa che dici ah però mamma mia questa cosa mi servirebbe però non esiste le migliori idee di business vengono da lì da un'innovazione quindi da qualcosa che non c'è o che qualcuno magari non utilizza non sfrutta o comunque non usa in un determinato modo che magari è un suo stock classico però insomma può avere successo sì dovrei interfacciarmi qualcuno con qualcuno che possa consigliare spero di trovarla nel mio futuro mentor che mi sarà assegnato ecco che ho fatto richieste quindi insomma scusami Alessandro non ti voglio interrompere però insomma vorrei solo chiudere perché stanno lasciando diversi partecipanti grazie a tutti comunque gentilissimi e preparatissimi molto vi ringrazio tanto grazie a tutti per la partecipazione grazie mille a Valeria per l'interessantissima presentazione e vorrei solo ricordare appunto visto che me lo chiedono in chat che la prossima formazione si terrà il 20 maggio e sarà tenuto da un altro mentor di Microlab e invece sarà dedicata alla gestione del tempo e strategie e strumenti per gestire al meglio il tempo abbiamo estrapolato questo argomento dallo scorso questionario di feedback dei partecipanti al primo webinar e ci sembrava interessante devo seguire anche io ci sembrava interessante rispetto a magari dei piccoli imprenditori oppure a dei libri professionisti appunto che devono fare tutto e devono quindi improvvisarsi tutti i ruoli possibili e immaginabili all'interno della loro azienda e quindi appunto delle strategie degli strumenti concreti come gestire al meglio il tempo tutti gli altri appuntamenti e anche la prossima formazione dedicata alla comunicazione su digitale sempre con Valeria sono sul nostro sito quindi vi invito a consultare il nostro sito piccola anticipazione quella con Valeria la seconda sarà il 17 giugno se non sbaglio quindi insomma se volete la seconda parte di questo incontro sarà tra un mesetto di fare sedimentare un po' queste informazioni e niente compilate il questionario di feedback per noi è molto importante per continuare a migliorare sempre le nostre formazioni e grazie a tutti e buona serata ciao